... è vero roba, gli indirizienti, gli indirizienti che sono dei grandi pagati, collegati, votati con i soldi e i cittadini, hanno i doveri, i doveri di essere presenti, presenti, se noi saremo con un esempio di caro competente, a chi è precisato c'è la decisione, a chi è precisato c'è la decisione, a chi è precisato, c'è la decisione, anche questa c'è la decisione, anche questa c'è la presenta, e non è una cosa che è la donna, c'è la in marcia, e la testa, stai con il mio canto, perché questo è il senatore, sono il senatore desiderio, il collega lei, sta veramente molto tranquillo rispetto al senatore della Cusciotto, che non ha la pratica, quando si lega la vita dei decenni e dei miei commissari, quindi chiediamo al senatore, al cittadino, che gli indirizienti, oggi, adesso, faccio un senatore di Cusciotto, se volessero presenti, devo rispondere alle internazioni dei consiglieri comunali, di Cusciotto, che noi non siamo qua con quella della realtà, ma siamo qua con la felicità dei tanti stati, dove abbiamo il dialogico, il corale, il controllale, è di licitare, se questa cosa è terra di 4.700 quadrati, 8.000 per ogni giorno, è gravissima questa cosa, e chiedo al senatore, se accettate i sistematici di Cusciotto, non è una legata. Grazie, Dott. Grazie, Dott. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.